Ciao, oggi è mercoledì 20 gennaio 2021. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega, in maniera semplice e senza dare niente per scontato, le cose utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Oggi parliamo dell'ultimo giorno di Trump da presidente e di chi vuole togliere il vaccino ai più piccoli. Oggi è l'inauguration day, il giorno solenne in cui finisce ufficialmente la presidenza di Donald Trump e Joe Biden diventa 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. L'inaugurazione è il momento simbolico in cui il nuovo presidente giura fedeltà alla Costituzione ed entra ufficialmente in carica. E questo è un passaggio formale che avviene un po' in tutte le democrazie del mondo, anche da noi il presidente del Consiglio giura. Ma come molte cose che succedono in in America, anche l'insediamento del presidente è una cerimonia molto attesa, molto sentita e molto spettacolare, con bandiere, musica, cantanti, attori, fuochi d'artificio, tutto quello che serve. Questo Inauguration Day però sarà molto diverso dal solito. Innanzitutto ovviamente per colpa del Covid non ci sarà la folla che di solito si accalca sul National Mall, che è la grande spianata con l'obelisco che si estende per tre chilometri dal Lincoln Memorial a Capitol Hill, che è la collina dove assiede il Palazzo del Congresso, il Parlamento americano. Pensate che nel 2009, per il giuramento del predecessore di Trump, Barack Obama, sul National Mall c'erano quasi due milioni di persone. Quest'anno saranno poche centinaia, tutte distanziate. Poi Donald Trump ha detto che non sarà a Washington, probabilmente sarà in uno dei suoi campi da golf in Florida. E il fatto che il vecchio presidente non assista al giuramento di quello nuovo è uno sgarbo praticamente senza precedenti, visto che nella storia degli Stati Uniti è accaduto solo altre tre volte, e mai in questo secolo e neanche nel Novecento. Questo è solo l'ultimo affronto di Trump a Biden e neanche il più grave, considerando quello che è successo solo 15 giorni fa, quando lo ricorderete, una folla di scalmanati aizzati da Trump e dai suoi proclami sul fatto che le elezioni regolarmente vinte da Biden siano state truccate. Ha assaltato il congresso costringendo i deputati e i senatori che erano riuniti per convalidare proprio l'elezione di Biden a rifugiarsi in un posto sicuro in attesa che tornasse l'ordine. In quell'assalto, ricordiamolo, sono morte cinque persone. La cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti è ovviamente un evento sempre molto sensibile dal punto di vista della sicurezza, ma quest'anno lo sarà in maniera particolare. Pochi giorni fa la polizia ha fermato una persona che aveva un passi falso per accedere al giuramento e gli ha trovato un arsenale di 500 munizioni. Insomma, la tensione è altissima. Biden però chiaramente non ha intenzione di rinunciare a questa che in circostanze normali è una grande festa della democrazia. Quindi, nonostante tutte le difficoltà, sul palco con lui ci saranno Lady Gaga, che canterà l'ino nazionale, e Jennifer Lopez. E poi, dopo la cerimonia vera e propria, ci sarà uno spettacolo di un'ora e mezza, due ore, condotto da Tom Hanks con Bon Jovi, Justin Timberlake e altre star. Tutto sarà trasmesso a reti unificate anche su YouTube, Facebook, su tutte le piattaforme e ovviamente anche sul sito di Repubblica. L'appuntamento è alle 17.30, ora italiana, quando a Washington saranno le 11.30 del mattino. Letizia Moratti è un nome che forse vi dice qualcosa, perché è già stata. Ministro dell'istruzione, presidente della RAI, sindaco di Milano e da pochi giorni è assessore alla salute della regione Lombardia. Appena nominata, Letizia Moratti ha dichiarato che il vaccino anti-covid dovrebbe essere dato in quantità maggiore alle regioni che hanno il prodotto interno lordo più alto, vale a dire alle regioni più ricche. L'affermazione in sé è talmente spiazzante che merita che ci fermiamo un attimo a riflettere per capire se possa avere qualche spiegazione e qualche fondamento. Intanto chiariamo che, secondo Moratti, la ricchezza della regione non dovrebbe essere l'unico parametro, ma uno dei parametri per distribuire le fiale di vaccino. Gli altri sarebbero la mobilità, la densità abitativa e il numero di contagi. Letizia Moratti non è l'unica persona che in questi mesi ha fatto proposte come questa. A novembre il presidente della Liguria, Giovanni Toti, aveva detto che gli anziani, che sono i più colpiti dal covid, non sono indispensabili allo sforzo produttivo del paese. A dicembre Angelo Sciocca, che è un europarlamentare della Lega, aveva detto che la Lombardia dovrebbe ricevere più vaccini del Lazio perché economicamente i cittadini lombardi valgono di più. Insomma, anche se poi tutti alla fine fanno retromarcia, smentiscono o dicono di essere stati fraintesi, sotto sotto c'è questa idea che il vaccino dovrebbe essere dato prima alle persone o alle categorie o alle regioni più produttive. Il problema, o la fortuna, è che questa teoria non sta in piedi. Perché il vaccino funziona solo se lo fa più gente possibile. Solo così il virus smette di circolare. E i ricchi, statisticamente, sono meno dei poveri. Tra l'altro, come hanno scritto in un commento proprio su Repubblica Tito Boeri e Roberto Perotti, applicando questo criterio, l'Italia, che ha un prodotto interno lordo inferiore, dovrebbe avere a sua volta meno vaccini di altri paesi europei. Qui mi viene in mente la citazione con cui inizia un libro che sto leggendo, proprio come te, di Nick Corby. Ce l'ho qui, così ve ne leggo un pezzo. Se dovessimo valutare le persone, non in base alla professione o al potere, ma in base alla bontà e al coraggio, all'immaginazione e alla sensibilità, alla comprensione e alla generosità, non ci sarebbero classi. Chi sarebbe in grado di dire che uno scienziato è superiore a un facchino con ammirevoli doti di padre o un funzionario pubblico a un camionista con una speciale abilità nel coltivare rose. Che poi, con questo criterio, in fondo alla lista degli improduttivi, insieme agli anziani, ci sarebbero i giovani, che se studiano non lavorano e che se lavorano guadagnano meno dei grandi e che invece sono proprio i primi da portare fuori da questa emergenza. C'è un dato allarmante che è stato diffuso dal bambino Gesù, l'ospedale di Roma che si occupa dei più giovani. Secondo Stefano Vicari, che al bambino Gesù è primario di neuropsichiatria, per colpa del lockdown sono aumentati a dismisura gli atti di autolesionismo, anche i tentativi di suicidio e le richieste di aiuto psicologico da parte dei giovanissimi, ragazze e ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Al punto che un ospedale grande e specializzato, proprio come il bambino Gesù, non riesce più ad accoglierli, sconfiggere la pandemia facendo tutto quello che è necessario a partire dai vaccini, è un dovere soprattutto nei loro confronti. E anche per oggi è tutto, Newsbox torna domani. Vi ricordo che siamo anche su Instagram e su TikTok, basta cercare Newsbox o Alessio Balbi il mio nome per trovarci. Quello è anche il posto nel quale potete scrivermi e dove rispondo alle vostre domande. E da oggi siamo anche su Alexa, se volete potete attivare la skill di Newsbox e aggiungerla al vostro sommario quotidiano. Ciao e a domani! Grazie! 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 Grazie!